Vieni ad esultare anche tu nei centri Buffetti. Dal 9 al 14 settembre, con la promozione Occhio alla Penna, vinci subito buoni sconto e partecipi all'estrazione di una BMW 318 Cabrio e di altri fantastici premi BMW, T-Nit, Team e HP. Buffetti, fatti per il tuo successo. E' evoluta, intelligente, colta, simpatica. Riesce anche a farmi ridere, l'ho invitata a fare un giro in moto e lei ha detto sì. La settimana enigmistica, ogni occasione è buona. Maestro, pesa un quintale, prenda sta mela. Ma è l'ultima. Appunto, se sbrighi. Io ho un brutto presentimento, ma con sta mela. C'è pure un serpente qua. Quale serpente? Quello è il bruco. Dei tre metri? È un bruco grosso, è il brucone. Se può fare la macedonia senza mela, su. Scusi, eh. Eppure la sapevate la storia della mela? Io sì. Difatti la colpa è dei laurenti. Poi a macedonia, che ce frega di Pietro. Ma a me, ma anche mi piace la macedonia. Ma a me, io giuro, storpente, gli posso spiegare tutto, gli posso... Posso dare un caffè? Qual le pare il momento? Sì, crema e gusto. Ogni momento è quello giusto. Lo dice il proverbio. Mazzà quanto è buono sto caffè, eh. Ha visto? Ci ha perdonato. Opa da matti. Stiamo nel 2000, stiamo. E guarda ancora che tocca fa per far nevicare in Italia. Lo dice che è con sta carona scia. E l'hanno fatto, pure santo l'hanno fatto. Crudo o cotto? Gran biscotto. Che vuoi? Prasciutto. Crudo o cotto? Gran biscotto. Crudo o cotto? Gran biscotto! Gran biscotto. Grazie. Ti piace il gran biscotto, eh? Gran biscotto è solo rovagnati. Guardia, costiera, emergenza. Comincia il mare. 11 settembre 2001, alle 8 e 46 ora di New York, un aereo dirottato dai terroristi islamici si schiantava contro la torre nord del World Trade Center. Cominciava la tragedia che avrebbe cambiato la storia del mondo. A un anno di distanza, una grande... a un anno di distanza, un anno di distanza, un anno di distanza. Rino Twingo nuova collezione, insospettabilmente diabolica. Lo testiamo in laboratorio, in strada, sulla sabbia a 40 gradi. Sappiamo che quando perdi fluidi, minerali ed energia, niente funziona meglio di Gatorade. Ed è per dimostrarlo sempre che lo testiamo ogni domenica, insieme ai tecnici più esigenti del mondo. Senza Telepiù Digitale la vita non sarebbe così emozionante. Tutto il calcio Telepiù, il grande cinema mai visto in tv e una selezione di canali tematici a 29 euro al mese per tutto il 2002. Telepiù Digitale, entra nel vivo. Se hai provato una crociera Costa, è difficile tornare alla vita di tutti i giorni. Costa Crociere, la vacanza che ti manca. Morbido e pronto da gustare, quando vuoi, come vuoi. Pane e mulino bianco. Mangia sana e vivi meglio. Ricordami chi sei, cittadino. Generale Bonaparte, attualmente senza comando. Io vado sempre in fondo alle cose che faccio, quindi non chiedermi conto del sangue che scorrerà. Strada animale, con uno sguardo d'acqua. Tu sei il diavolo. Voglio obbligare i russi e gli austriaci a dare battaglia là dove ho deciso io. Non ci sarà mai più un re in Francia. Io sono repubblicano. Ma un imperatore può essere eletto. Sta a voi far sapere a tutti che la nostra epopea avrà degli effetti incalcolabili sulla città. Con me. O contro di me. Venezia, 59esima mostra internazionale d'arte cinematografica. Il cinema italiano, protagonista con la produzione di Rai Cinema e la distribuzione O-One. Qualità nelle scelte, successo e fiducia crescente nella fabbrica di sogni ed emozioni firmata Rai Cinema. Il programma è stato presentato da D68i Dai un tocco di colore alla tua